Buongiorno, in questa nuova lezione andiamo ora a proseguire con la nostra spiegazione aggiungendo l'interazione client-server alle applicazioni che abbiamo sviluppato finora in React quindi ci ricollegheremo al nostro server REST che abbiamo già sviluppato nella prima parte del corso quindi questa è l'organizzazione di questa lezione prima di tutto vedremo come andare a effettuare le chiamate verso la nostra API REST in React quindi dove è bene collocarle, come è bene gestirle e così via e poi vedremo un problema tecnico che viene fuori nel momento in cui abbiamo un secondo server da dover gestire nelle nostre applicazioni React e vedremo le varie varianti che possono essere utilizzate per andare a risolvere il problema ed inoltre completeremo il discorso vedendo che cosa il sistema di sviluppo di React ci mette a disposizione in più di quello che ci serve a risolvere il problema del doppio server quindi ci sono una serie di facilitazioni che è bene conoscere perché velocizzano lo sviluppo e aiutano abbastanza nello sviluppo di applicazioni React per prima cosa quindi andiamo a vedere come andiamo ad effettuare le chiamate all'API esterno quindi il primo problema che ci poniamo è dove vogliamo caricare l'informazione quindi ovviamente dobbiamo capire in quale componente, in quali metodi, di quali componenti e così via è bene andare ad effettuare le chiamate che alla fine sono richieste che avvengono sulla rete tramite protocollo HTTP quindi di fatto delle fetch che è quello che abbiamo visto nella prima parte del corso e quindi quando farle, dove farle, come gestirle in React e così via e poi c'è anche un problema a cui forse non si pensi immediatamente ma che viene fuori nel momento in cui andiamo a fare questo tipo di chiamate che sono di per sé azioni asincrone che quindi ci impiegano un certo periodo di tempo quindi cosa facciamo durante il caricamento dell'informazione come interagiamo con l'utente, cosa gli facciamo vedere è necessario fargli vedere qualcosa e così via quindi questo per esempio per la fase del caricamento per quanto riguarda invece l'aggiornamento dei dati quindi l'utente inserisce dei nuovi dati per esempio nella vostra applicazione inserisce un nuovo task, inserisce un nuovo esame eccetera cosa facciamo nel momento in cui stiamo aggiornando i dati ci vorrà un attimo di tempo per aggiornare questi dati sul server però bisogna capire come gestire questo tempo all'interno della nostra applicazione facciamo vedere immediatamente l'applicazione aggiornata nel frattempo aspettiamo che il server aggiorni sperando che tutto vada a buon fine oppure attendiamo nell'aggiornamento dell'applicazione quindi della user interface e quindi dobbiamo sostanzialmente peggiorare in un certo senso l'esperienza dell'utente il quale deve attendere che l'operazione sia completa prima di averne per esempio conferme quindi nel frattempo vedrà un'applicazione che non risponde immediatamente queste sono tutte domande che dobbiamo porci nel momento in cui andiamo a collegare la nostra applicazione React con delle API remote prima di addentrarci in questo discorso e vedere i punti precedenti nel dettaglio distinguiamo prima di tutto o meglio richiamiamo prima di tutto il fatto che in React ci sono due differenti tipi di stato quello che ci interessa di più in questo momento in questo discorso è lo stato dell'applicazione e delle entità che fanno parte della nostra applicazione perché questo è quello che va a interagire col back-end quindi con le nostre API sul nostro server REST quindi nel momento in cui questo stato cambia deve andare ad aggiornare il back-end per esempio appunto un'aggiunta di un task un'aggiunta di un esame e così via all'inizio dell'applicazione carichiamo il browser cioè apriamo il browser con la nostra applicazione la prima cosa che deve fare la nostra applicazione è andare a caricare lo stato del server perché questo stato non è permanente non è cablato all'interno della nostra applicazione finora l'abbiamo fatto in React semplicemente per comodità ma non è così in un'applicazione vera bisogna andare a chiedere qual è la lista dei task che corrispondono a quello che vogliamo visualizzare nel momento in cui abbiamo delle operazioni che possono andare a modificare le informazioni sul back-end chiaramente dobbiamo verificare se questo è cambiato oppure no chiaramente questo è un discorso molto ampio che non possiamo affrontare del tutto in questa sede però appunto l'informazione potrebbe cambiare perché altri utenti l'hanno cambiata oppure perché ci sono dei sistemi connessi che hanno cambiato questa informazione anche se è la lista delle email qualcuno vi ha inviato un'email e così via quindi una maniera tra le più semplici di andare a gestire questi casi è periodicamente controllare le informazioni sul server ci sono anche maniere più efficienti però sono al di fuori dell'argomento di questo corso e potrete approfondire in altri corsi per esempio Distributed System Programming, Applicazioni Web 2 e così via o meglio Web Application 2 che sarà ottenuto in inglese e quindi questo è il problema che dobbiamo cercare di risolvere ora in questa lezione chiaramente questo tipo di stato è gestito è accessibile ai vari componenti e nell'applicazione più complessa è tra l'altro anche gestito in maniera leggermente differente da come abbiamo visto noi quindi gestito a livello globale dell'applicazione per una questione sostanzialmente di scalabilità e di miglioramento diciamo dell'accessibilità di questo stato ai vari componenti di nuovo non abbiamo particolare tempo per addentrarci in questi aspetti che riguardano più che altro la questione di quanto diciamo scalabile e manutenibile stiamo cercando di di fare l'applicazione nel momento in cui l'applicazione ovviamente diventa grande c'è poi un secondo tipo di stato che abbiamo già intravisto anche nei nostri esempi che è solamente che è uno stato molto più semplice dal nostro punto di vista perché non deve andare a interagire col back-end che è lo stato di visualizzazione o presentazione quindi pensate appunto allo stato di React nel momento in cui andiamo a riempire un form e quindi abbiamo l'informazione scritta nei vari campi piuttosto che lo stato di presentazione di una lista un albero eccetera con dei rami aperti chiuse eccetera questo stato non ha necessità di essere persistente come invece lo stato dell'applicazione la lista dei tasti degli esami eccetera quello che abbiamo scritto nei campi del form se il browser si chiude vorrà dire che quando si riaprirà avremo chiuso la pagina e vorremmo riaprire ripartiremo dal form bianco e così via quindi questo stato vive e muore insieme al componente che lo controlla quindi questo è il tipo di stato che in questo momento non ci interessa perché è gestito interamente all'interno dell'applicazione React e quindi è implementato a livello di stato locale e quando lo dobbiamo leggere facciamo this state quando lo dobbiamo settare usiamo la chiamata apposta di React di set state quindi il metodo a cui passiamo nuovo stato callback e così via e ce lo gestiamo interamente a livello dell'applicazione React e non ha a che fare o meglio non ha a che fare con lo stato che vogliamo andare a salvare sul backend noi quindi qui siamo interessati appunto allo stato dell'applicazione questo stato dell'applicazione è immagazzinato da qualche parte tipicamente in un database remoto e noi abbiamo visto in questo corso l'abbiamo reso accessibile tramite delle API REST che sono la maniera diciamo più diffusa oggigiorno per andare ad accedere a questo tipo di informazioni vediamo due termini che ci verranno utili nel discorso successivo deidratazione quindi disidratazione se vogliamo tradurlo in italiano disidratare lo stato significa estrarre lo stato dall'applicazione React e che può avvenire anche più volte durante l'esecuzione dell'applicazione e tra l'altro dovrebbe accadere tutte le volte che qualcosa all'interno dello stato dell'applicazione viene modificato perché tutte le volte vogliamo che questo stato sia reso persistente e quindi messo sul back end e quindi tramite delle API REST andare ad aggiornare le informazioni sul back end quindi per esempio nel database remoto e così via quindi ovviamente inseriamo un nuovo task un nuovo esame un nuovo qualcosa di nuovo all'interno dell'informazione della nostra applicazione che vogliamo rendere persistente e bisogna che questo stato sia estratto dall'applicazione React e messo in forma persistente sul database remoto l'azione opposta la reidratazione reidratare lo stato significa andarlo a recuperare dal database e il caso tipico quando capita sempre è quando l'applicazione parte quindi noi accediamo col browser all'applicazione alla nostra applicazione React questa si attiva all'interno dei componenti React non c'è questo stato iniziale ce l'abbiamo avuto finora nei nostri esempi ma solamente per una questione di praticità per fare pratica con tutti gli altri elementi di React ma nelle applicazioni reali il componente non ha lo stato lo stato va caricato per prima cosa nel momento in cui andiamo a creare il componente l'applicazione crea il componente tra l'altro visto che è il momento in cui dobbiamo andarlo a caricare e il momento in cui viene creato il componente c'è un apposito metodo che abbiamo visto tra i metodi di life cycle dei componenti che è il component di mount che è proprio il miglior posto per andare a fare questa operazione perché ricordate non possiamo farlo nel costruttore nel costruttore del componente è impossibile fare l'operazione perché il costruttore se è fatta l'operazione lì dovreste attendere che la chiamata fetch se è fatta una fetch o comunque la chiamata asincrona che va a caricare le informazioni termini e quindi bloccato è tutta l'applicazione e non è quello che vogliamo noi quello che desideriamo noi è che l'applicazione parta parta subito e magari mostri all'utente qualche cosa che magari fa capire all'utente che c'è qualcosa che verrà caricato quindi qualsiasi cosa da una semplice scritta a qualcosa che si muove tipo loading qualche animazione e così via piuttosto che come avete visto nell'applicazione più moderna qualche disegnino eventualmente animato che diciamo ha più o meno la forma di quello che verrà caricato come se fosse che so la faccia dell'utente con l'informazione dell'utente un pallino con qualche riga vuoti che sono visualizzati in attesa che l'informazione venga caricata dal server e questa informazione ovviamente viene caricata in maniera sincrona e dobbiamo attendere che arrivi nel momento in cui arriva faremo una set state sul componente e questa informazione verrà quindi aggiornata automaticamente da React resa visibile presentata che è proprio quello che è destinato a fare React abbiamo visto che il framework eccelle proprio in questa cosa del andare a aggiornare la presentazione e dell'informazione nel momento in cui questo è necessario con particolare efficienza vediamo quindi degli esempi pratici quindi nel momento in cui il componente viene montato e vi ricordo montato vuol dire inserito all'interno dell'albero DOM quindi creato da React e inserito nell'albero DOM abbiamo che in React viene chiamato il metodo componented mount nel quale la cosa che vorremmo andare a fare è fare la chiamata al back end quindi andare a dire di caricare l'informazione dal back end ovviamente lo facciamo come dicevo prima in maniera sincrona perché se lo facessimo in maniera sincrona bloccheremmo tutta l'applicazione quindi React e tutto quanto è una cosa che ovviamente non vogliamo fare qui abbiamo inserito direttamente fetch sarebbe poi meglio metterlo al di fuori in un apposito modulo eccetera ma solo a fine di esempio quindi andiamo concettualmente a fare in questo punto una fetch quindi un caricamento di un'informazione dal back end tramite un API REST che quindi ci alla quale diremo di andare a richiamare i metodi nel momento in cui l'informazione è caricata per esempio se sono API REST ci restituiranno un JSON abbiamo detto abbiamo sempre visto nei nostri esempi che una volta che abbiamo l'oggetto corrispondente dal JSON che quindi sarà qui in questo Archive Items facciamo quello che dicevo prima cioè la set state di Archive Items e questa operazione la facciamo magari tramite una funzione che sostanzialmente va a fare il merge di quello che già esiste quindi dello stato precedente prev state con quello che abbiamo caricato così abbiamo realizzato una funzione che è anche più generale diciamo e non funziona solamente all'inizio dove ovviamente lo stato iniziale chiaramente sarebbe stato vuoto e tra l'altro avendo questa funzione aggiuntiva possiamo anche diciamo aggiustare il formato dei dati che arrivano via JSON secondo il formato che ci è fornito dalle API di backend nel formato necessario a diciamo a React e quindi nel modo in cui abbiamo ottenuto lo stato all'interno del componente React e che quindi è quello che dobbiamo poi usare nella chiamata del set state nei casi diciamo più semplici il formato sarà tendenzialmente lo stesso con una chiave e diciamo un array che sostanzialmente deve essere popolato che all'inizio sarà vuoto e che magari ad un certo punto se invece dobbiamo che so aggiungere o modificare e dobbiamo appunto manipolare in qualche maniera abbiamo quindi visto l'operazione di reidratazione che vuol dire sostanzialmente andare a caricare dal server e inserire nello stato del appunto del componente React andiamo a vedere invece l'operazione contraria la deidratazione durante gli aggiornamenti abbiamo qualche componente che decide che chiama un handler che abbiamo scritto appositamente per andare a fare l'operazione di aggiunta nel fare l'operazione di aggiunta per esempio si può fare l'operazione di chiamata dell'API REST quindi prendiamo hide item c'è un nuovo elemento da aggiungere il task l'esame e così via facciamo l'operazione di fetch sul end point corretto post inviamo il body eccetera eccetera ecco e poi questa operazione quando sarà completa tendenzialmente diciamo in realtà non ci sarà nulla da fare perché nel frattempo potremmo anche fare appunto set state aggiornando lo stato del nostro componente quindi prendendo ciò che c'era prima e aggiungendoci un nuovo elemento questo nel caso in cui appunto sia un semplice array qui abbiamo un po' semplificato il codice diciamo rispetto a un caso reale dove magari avreste una property o qualcosa di questo tipo semplicemente per focalizzarci sulle parti più importanti facciamo però attenzione a che cosa succede in questo codice perché come vedete come abbiamo sottolineato in questo ricordo qua i due aggiornamenti cioè la chiamata all'API remota e l'aggiornamento del stato locale funzionano in parallelo nel senso che nel momento in cui noi chiamiamo la fetch non è che si attende che la fetch termini con successo o con errore per andare a fare l'operazione set state sapete sapete che la fetch ritorna una promise a cui sono agganciate delle callback da chiamare nel momento in cui la promise sarà risolta cioè ci sarà un ritorno dalla chiamata dal metodo http che abbiamo utilizzato e quindi questo metodo ci dirà ok piuttosto che errore e quindi andremo a chiamare un'apposita funzione quindi questa operazione quindi l'operazione di esecuzione della fetch diciamo impiegherà pochissimo perché è l'eseguire una riga di codice javascript che non blocca e quindi l'asset state verrà richiamata immediatamente e quindi l'aggiornamento da parte dell'interfaccia utente verrà sostanzialmente immediatamente come siamo abituati a vedere nell'applicazione react che abbiamo visto fino a questo momento e questo da un lato va bene come dicevamo prima perché la user interface sembra rispondere in maniera estremamente rapida però il problema è che stiamo diciamo facendo quello che viene chiamato qui un optimistic state update cioè un aggiornamento dello stato in maniera molto ottimistica cioè stiamo assumendo che l'operazione abbia successo per quanto riguarda l'API remota quindi assumiamo che lo stato remoto sia aggiornato senza errori che ovviamente è un po' rischiosa però di nuovo qui bisogna capire qual è la cosa che si desidera cioè o si desidera avere l'interfaccia utente responsive che risponde immediatamente alle azioni e poi nel frattempo facciamo gli aggiornamenti sul server appunto sperando che abbiano successo oppure dobbiamo decidere che l'operazione non avrà un risconto immediato diciamo all'interno dell'applicazione quindi non verrà mostrato questo nuovo elemento immediatamente ma verrà mostrato qualcosa tipo caricamento in corso la nostra animazione di cui dicevamo prima eccetera qualche cosa che verrà eliminato solamente nel momento in cui avremo la risposta di questa operazione asincrona quindi l'operazione di diciamo reidratazione che quella per esempio di caricamento iniziale può richiedere un po' di tempo durante il quale il componente sarà renderizzato quindi visualizzato vuoto quindi con il suo stato iniziale che è quello che è stato settato non è presente qui ma nel costruttore quindi avremo un this state uguale che so array vuoto se fosse un array un oggetto vuoto eccetera e questo diciamo va gestito deve essere parte del modo in cui progettiamo la nostra applicazione perché appunto dobbiamo decidere che cosa far vedere come dicevamo prima potremmo anche decidere di far vedere un qualche cosa che appunto informa l'utente del fatto che diciamo l'elemento c'è ma l'informazione non c'è ancora e questo si può realizzare in maniera relativamente facile con una proprietà proprio all'interno dello stato del componente che in questo caso abbiamo chiamato loading che nel momento in cui il componente è montato quindi diventa visibile per l'utente impostiamo a true e nel momento in cui terminiamo il caricamento quindi nel ramo then del caricamento delle operazioni da parte dell'API che va a agire appunto a recuperare l'informazione dal server remoto sarà impostata false e ovviamente imposterà anche l'informazione caricata all'interno dello stato chiaramente qui non c'è ma nel metodo render anzi l'abbiamo scritto qui a sinistra nel metodo render avremo una visualizzazione differente secondo che il valore sia di loading sia uguale a true piuttosto che false per esempio un messaggio piuttosto che lo spinner qualcosa che aggira un qualcosa di animato che dice che stiamo attendendo dell'informazione se il loading è true oppure appunto nel caso in cui il loading sia false ci sarà ovviamente l'informazione perché a questo punto sì ci sarà davvero l'informazione all'interno dello stato quindi usiamo una variabile diciamo nello stato localmente al componente per esempio chiamandola loading il nome tipico che si dà per indicare quando l'operazione di reidratazione quindi il caricamento dello stato dal server remoto è completato e per quanto riguarda invece il salvataggio dell'informazione abbiamo questo trade off di cui parlavamo prima chiaramente potremmo fare la stessa operazione però diciamo lì c'è da gestire sia il caso che vogliamo dire stiamo salvando l'operazione e quindi diciamo al posto di loading potremmo avere un saving o qualcosa di questo tipo e quindi non visualizzare nulla oppure se vogliamo appunto essere ottimisti visualizziamo un'informazione così come se fosse stata aggiornata correttamente ed eventualmente in caso di errore andremo a visualizzare un errore da qualche parte all'interno della nostra applicazione quindi ha senso andare a ragionare poi dove andare a diciamo inserire diciamo queste operazioni che poi devono essere in grado di andare a richiamare i metodi set state per aggiornare lo stato dei componenti che deve essere quindi in linea con quello che sta succedendo all'interno dell'applicazione quindi quali sono i componenti il componente e i componenti che dovrebbero caricare i dati beh prima di tutto i componenti che caricano i dati dovrebbero essere o il componente dipende dalla dimensione dell'applicazione il diciamo genitore comune di tutti i componenti interessati nei dati perché semplicemente perché come ha fatto React le properties sono il modo che abbiamo di passare l'informazione da un componente padre a componenti figli quindi in questa maniera se abbiamo l'informazione nello stato nel componente di livello più elevato è semplicemente passata con le properties ed è il modo più semplice e poi deve essere un elemento padre di tutti i componenti che devono mostrare di nuovo l'informazione di caricamento perché la teniamo nello stato quindi è nello stesso stato e quindi sapete non possiamo passarla come property se l'elemento che deve mostrare è loading l'animazione quello che volete non è figlio di quello che ha appunto l'informazione e la stessa cosa vale per i messaggi di errore di nuovo per poter estrarre il messaggio di errore dobbiamo accedere allo stato perché probabilmente mettiamo l'informazione dell'errore nello stato perché quando appunto falliamo un'operazione perché per qualche motivo non si può salvare l'informazione sul server dobbiamo andare a mettere nello state error con un certo messaggio che verrà poi visualizzato e di nuovo passato come property da qualche parte a qualche componente che lo visualizzerà sullo schermo quindi potrebbe e può essere anzi il componente che mantiene lo stato che deve essere reidratato e quindi quello nel quale vogliamo ovviamente andare a fare la state con l'informazione nel momento in cui questa è stata caricata correttamente può essere un componente al di sotto di quello che mantiene il nostro stato se una funzione di reidratazione è passata come proprietà quindi come facciamo come abbiamo gli handler che vanno all'insù e vanno a impostare lo stato nel momento in cui qualcosa cambia in un componente figlio possiamo fare la stessa operazione quindi fare la fetch all'interno di un componente figlio però poi dobbiamo avere questa funzione questo handler che è in grado di andare a fare l'operazione di set sul componente che mantiene lo stato e quindi deve essere stata passata una funzione di questo tipo come property al componente stesso al componente che deve rispondere all'operazione di fetch come sempre quando possibile cerchiamo di dare delle indicazioni pratiche quindi nel momento in cui vi è prestata di inserire diciamo del codice che deve andare a interagire con un server remoto come peraltro abbiamo già fatto nella prima parte del corso quando non usavamo ancora React ovviamente manteniamo tutti i metodi fetch in un modulo JS separato chiamiamolo come volete API REST quello che volete però cerchiamo di mantenerlo separato perché chiaramente questo facilita l'organizzazione di tutto il codice all'interno della nostra applicazione quindi manteniamo tutti i dettagli dei metodi REST dentro un modulo apposta così che le API non devono dipendere da React o del suo stato o dalle properties eccetera perché appunto questo API sostanzialmente l'unica cosa che deve fare è prendere l'informazione che deve essere scritta sul server remoto mandarla e dare indietro un eventuale messaggio di errore o qualcosa di questo tipo nel caso in cui deve caricare l'informazione deve sapere qual è l'endpoint a contattare chiedere l'informazione e restituire l'informazione sotto forma di un oggetto JavaScript punto niente altro non deve sapere niente del fatto che c'è React che c'è uno stato eccetera tra l'altro quindi di per sé nel momento in cui avete scritto bene un modulo API già ben fatto appunto per la prima parte del corso quindi per il vostro esercizio di laboratorio e appunto senza React questo dovrebbe essere riutilizzabile praticamente tale e quale per la vostra applicazione React poi nell'applicazione React quindi nel codice dell'applicazione ovviamente dobbiamo gestire i componenti il loro stato eccetera eccetera ma non dobbiamo andare a fare le chiamate dirette come abbiamo visto nei nostri esempi precedenti lì l'abbiamo fatto solo per semplicità per comodità per non dover scrivere tanto codice far vedere tante cose in un'unica slide ma noi andiamo a chiamare dei metodi esportati dal modulo API e non sappiamo neanche tra l'altro se sotto c'è l'API REST o che tipo di API c'è noi chiamiamo un metodo asincrono e a un certo punto questo metodo asincrono ci darà dell'informazione sotto forma di un oggetto JavaScript chiaramente bisogna mettersi d'accordo sul formato di questa informazione quindi sapere qual è il formato dell'oggetto che ci viene restituito che dobbiamo passare nel caso in cui dobbiamo andare a inviare dell'informazione al server ma a parte questo non dobbiamo sapere nulla questa è la cosiddetta separation of concerns che è un tipico modo di programmare in maniera che diciamo ognuno ogni modulo lavori sui dati di suo interesse senza sapere come sono implementati diciamo i metodi che vanno ad agire per realizzare una certa funzionalità che però non è necessaria per quel modulo e quindi nella parte applicazione conosciamo come funziona i componenti lo stato eccetera eccetera ma non sappiamo come funziona l'API l'API è il contrario invece sa come andare a fare richieste e recuperare le risposte del server ma non sa nulla di come funziona l'applicazione questo ci consente anche di appunto scambiare facilmente i metodi diciamo che usiamo nell'API per fare dei test come avete visto nell'esempio che abbiamo avuto abbiamo scusate messo a disposizione diciamo fino a questa lezione c'era un modulo API che però non faceva nulla implementava semplicemente una funzione asincrona finta perché non andava a fare una richiesta vera ad un server e restituiva fake exam fake courses e così via e quindi di per sé a noi basta sostanzialmente sostituire quel modulo API con qualcosa di vero che vada a fare la richiesta al server REST e quindi diciamo abbiamo già fatto metà del lavoro quel diciamo quel modulo API si occupava solamente dell'operazione di reidratazione quindi del caricamento da parte del server remoto ovviamente abbiamo ancora un pezzo da implementare che è quello del salvataggio dell'informazione però come vedete diciamo abbiamo separato il problema diciamo di andare a chiamare il metodo con la sua implementazione e lì dentro potremmo andare a memorizzare l'informazione peraltro non necessariamente anche solo nel database potremmo anche andare a metterla localmente e così via localmente per esempio non local storage e così via di cui diciamo tra un istante questa è dunque l'architettura concettuale che ovviamente è diventata più complicata perché prima avevamo solamente sostanzialmente questi due pezzi quindi siamo passati da un'applicazione React pura che quindi sostanzialmente ha i suoi componenti il suo stato il mount l'endless e così via e che interagisce chiaramente col DOM per avere qualcosa da visualizzare all'utente ha un'applicazione più complicata che è quindi uno strato di API che viene richiamato al bisogno per esempio nei componenti mount nel caso in cui dobbiamo caricare l'informazione o negli event address nel caso in cui dobbiamo andare a modificare l'informazione questa API va ad utilizzare la fetch presente all'interno dell'ambiente del browser quindi della web API del browser la quale va a scatenare delle richieste di rete sulla rete via HTTP poi come formato dei dati usiamo JSON come abbiamo già visto in precedenza nel corso e andiamo a interagire con una seconda applicazione che è il nostro server API che noi abbiamo implementato sotto forma di endpoint rest e che può tra l'altro essere scritto in qualsiasi linguaggio essere anche remoto quindi non necessariamente sulla macchina locale perché utilizziamo la rete per parlarci anzi in generale non è sulla macchina locale non è certamente sulla macchina dove gira l'applicazione perché l'applicazione gira all'interno del browser che è quello che usano gli utenti invece il nostro server chiaramente gira sull'ambiente del server remoto al quale ci colleghiamo del quale poi dovremo scaricare anche l'applicazione react e questo lo vediamo tra poco nella seconda parte di queste stride quindi il nostro server rest sostanzialmente noi finora l'abbiamo implementato come un'applicazione che gira all'interno di node che usa quel modulo express che quindi configura delle root get post per rispondere a dei metodi http che di fatto ci consentono di recuperare informazione e di andare a impostare e settare dell'informazione potrebbe rispondere anche a altri metodi abbiamo visto che esista anche put delete e così via nel quale per nostra comodità abbiamo fatto quel modulo DAO che ci consente di astrarre l'accesso al database che per nostra comodità di nuovo abbiamo messo su school item ma può essere in qualsiasi tipo di database che tra l'altro di nuovo può essere su un altro server eccetera notate bene che appunto qui l'interfaccia è http json quindi come dicevo prima questo solo per nostra comodità l'abbiamo voluto implementare in javascript che gira in node perché così non ci siamo dovuti imparare un nuovo linguaggio di programmazione per realizzare server web perché perché appunto potremmo farlo in qualsiasi altro linguaggio php python qualsiasi altro sistema che sostanzialmente si è in grado di fornire contenuti json andando interrogare un database con un minimo di logica appunto che ci consente di fare le query e di decidere a quali metodi rispondere con andare a recuperare i suoi parametri il body delle richieste eccetera eccetera quindi è solo diciamo una pura comodità che appunto per limitare la dimensione del corso abbiamo voluto riciclare javascript anche sul lato del server utilizzando questo ambiente di esecuzione node ecco vi faccio notare ancora un paio di cose una che non necessariamente dobbiamo per forza andare a immagazzinare informazione remotamente i browser moderni hanno anche un meccanismo lato client di storage di immagazzinamento di informazione diciamo semi permanente semi permanente nel senso che chiaramente va col browser nel momento in cui disinstallate il programma e lo reinstallate chiaramente tutto va perso perché sta nell'informazione diciamo che si porta dietro il browser e questo meccanismo di immagazzinamento è un meccanismo basato su diciamo su sistema chiave valore e possiamo quindi immagazzinarci per esempio degli oggetti javascript serializzati quindi in formato json o cose di questo tipo che possono essere anche recuperate conoscendo la chiave chiave nel senso di nome della proprietà in visite future quindi in caricamenti successivi dell'applicazione esistono due tipi di storage il local storage quindi permanente e il session storage che invece diciamo è permanente ma solo fin quando il browser è attivo nel momento in cui chiudete il browser chiudete il tab del browser corrispondente all'applicazione l'informazione va persa e quindi è permanente solamente durante la sessione e per questo si viene chiamato session storage per usare questo meccanismo potremmo usare la stessa identica logica che usiamo per lo storage remoto ma è chiaramente molto più veloce e agisce in maniera sincrona perché sostanzialmente internal browser quindi non c'è niente da chiedere diciamo sulla rete che è quello che poi di fatto ci fa impiegare tempo oltre che far processare ad un secondo processo che è quello che gira sul server web l'informazione e quindi i due meccanismi tra l'altro possono anche essere combinati e quindi possiamo anche immagazzinare l'informazione localmente nel local storage e oltre che immagazzinarla sul server e o quindi a seconda di come vogliamo fare mantenere solo dell'informazione localmente sul local storage cosciente del fatto che se non è detto che appunto permanga diciamo così all'infinito perché se il browser non riesce più ad accederci perché scusate se l'applicazione non riesce più ad accederci perché il browser è cambiato usiamo un altro browser questa informazione non c'è più mentre invece se è in un posto centralizzato su un server chiaramente potremmo accederci quindi questo è da considerare ed è ovviamente uno di quei trade off che dovete considerare voi in quanto diciamo programmatori dell'applicazione dove mantenere l'informazione questa informazione deve essere mantenuta in maniera più affidabile meno affidabile in maniera più permanente meno permanente devo immagazzinarla velocemente posso attendere cosa faccio appunto con l'user interface e così via quindi possiamo sostanzialmente dar luogo a diversi tipi di struttura della nostra applicazione non è questo diciamo la sede in cui vogliamo andare a approfondire questi discorsi perché sono anche abbastanza complicati perché per esempio il risultato della lettura di API REST potrebbe per esempio essere messo nel local storage che agisce quindi come cache o magazzinato nello stato dell'applicazione o addirittura in un context dell'applicazione che abbiamo visto in passato che quindi consente diciamo di distribuire e accedere allo stato in maniera un po' più semplice se lo utilizziamo per immagazzinare questa informazione diciamo per cacheare questa informazione oppure l'API del client potrebbe implementare uno strato di caching e quindi farlo direttamente l'API del client e quindi get future per la stessa risorsa REST potrebbero ritornare risultato dalla cache piuttosto che dal server remote e così via però dunque questo non è la sede in cui approfondire questi aspetti noi ci teniamo a sottolinearli solo per dire che esistono una diciamo miriade di possibilità nel momento in cui abbiamo diversi storage con diverse diciamo velocità e affidabilità e persistenza però fate attenzione perché appunto cerchiamo da un lato di non complicare la struttura della nostra applicazione in maniera eccessiva perché se no appunto questo diventa un problema di per sé la gestione appunto della cache perché tra l'altro ecco come vedete scriviamo sulla slide l'invalidazione dei dati della cache è una fatta giusta correttamente è uno dei problemi più difficili dell'ingegneria informatica perché bisogna sempre capire se devo invalidare tutto devo invalidare una parte ma quando lo invalido nel momento in cui come faccio a sapere se sul server esiste ed è corretta ma io ce l'ho localmente ma localmente poi è stato aggiornato correttamente sul server e quindi posso fornirla essendo sicuro che il server ce l'ha corretta e così via quindi sono problemi veramente complicati e quindi diciamo che noi abbiamo accennato il fatto che esistono nel momento in cui eventualmente si volesse utilizzare un sistema di questo tipo probabilmente è bene andare a vedere diciamo se esiste già del supporto fatto in rete per supportarci in queste operazioni quindi uno strato di caching già fatto ben fatto e così via e quindi sono tutti problemi che vengono fuori nel momento in cui chiaramente abbiamo a che fare con applicazioni distribuite che quindi devono comunicare il loro stato da un host a un altro host oppure da un pezzo di applicazione a un'altra parte di applicazione nella quale possono succedere appunto cose che non è detto siano diciamo cioè non sono controllabili direttamente dall'applicazione possono fallire possono intervenire aggiornamenti esterni e cose di questo tipo continuiamo ora diciamo a analizzare il caso che abbiamo discusso in precedenza in cui abbiamo l'applicazione quindi l'applicazione React che ha bisogno di parlare con un server web che fornisce le API REST e questa applicazione React in questo momento per come abbiamo sviluppato noi è servita da un altro web server quindi in questo momento abbiamo sostanzialmente due web server concettualmente la situazione è questa abbiamo il nostro browser che fornisce l'interfaccia utente con la quale l'utente interagisce e all'interno del browser c'è React con i suoi componenti e poi abbiamo la possibilità di caricare delle risorse esterne quindi con la fetch a fronte della richiesta iniziale del browser quindi quello che facciamo solitamente anzi in realtà ce lo fa direttamente React di aprirci il browser a localhost 3000 che è l'indirizzo di default dell'ambiente di sviluppo di React il create web app c'è il server web di React questo React development server che tra l'altro non è express e quindi non è quello che abbiamo visto già qualche lezione fa sul quale ci siamo impratichiti a scrivere appunto le API rest e il quale non non possiamo andarla a modificare facilmente e questo server sostanzialmente ci fornisce la risposta alla prima richiesta del browser che è la pagina HTML più tutte le risorse diciamo create dal ambiente di sviluppo di React quindi ci saranno i javascript che abbiamo scritto e che quindi è stato scritto diciamo sul server e che viene fornito poi vedremo tra poco come viene diciamo aggiustato per essere fornito al browser insieme alle altre varie risorse quindi le immagini il CSS e tutti questi elementi diciamo di supporto alla creazione dell'interfaccia come facciamo ad attivare questo application server quindi di fatto questo server web che diciamo ci mette a disposizione l'ambiente creator e act app beh è molto semplice lo fate sempre npm start sostanzialmente vi fa partire questo server d'altronde abbiamo anche il nostro server che server web che vuole fornire i servizi rest che abbiamo imparato a scrivere come un'applicazione che gira in node che usa express per realizzare un semplice server web nel quale abbiamo scritto tutte le nostre root quindi le varie get post che corrispondono all'API che vogliamo mettere a disposizione questo lo lanciamo come sapete come vi ricordate qualche lezione fa con node index.js che contiene appunto diciamo un po' di istruzioni che di fatto realizzano il nostro server web appoggiandosi alla libreria express e ovviamente questo non capisce JSX non so niente dei componenti react eccetera cioè sono quindi due mondi completamente differenti e quindi ci troviamo nella necessità di convivere con due server uno è quello che appunto ci viene fornito dal creator act app per lo sviluppo e per diciamo fornire la prima versione della nostra interfaccia al browser a fronte alla prima richiesta e poi c'è il secondo server con il quale dobbiamo interagire per andare ad utilizzare le nostre APRs che sono lo storage permanente della nostra informazione e tramite le quali possiamo andare a recuperare da questo storage le informazioni da inserire nella applicazione e abbiamo appena visto appunto come fare da questo punto di vista come andare a modificare i componenti react in maniera che usino la fetch del browser per andare a fare questa operazione abbiamo quindi una serie di problematiche nel momento in cui vogliamo mettere in funzione questo meccanismo quindi di fatto accendere questo secondo web server che è quello che ci fornisce l'API REST prima di tutto facciamo tutto all'interno di un server quindi dobbiamo studiare un meccanismo per portare tutto dentro un unico server o manteniamo i due server separati la risposta a questa domanda dipende moltissimo dal secondo punto cioè siamo in fase di sviluppo oppure siamo in un ambiente di produzione si dice quindi un ambiente che di fatto sta facendo funzionare l'applicazione in campo per utenti reali e così via quindi ha esigenze differenti dello sviluppo in fase di sviluppo noi vogliamo avere la massima convenienza nel senso di facilità d'uso la massima facilità di debug e il massimo diciamo più rapido tempo di risposta nel momento in cui andiamo a fare delle modifiche e così via mentre invece in un caso di produzione cioè applicazione che funziona in un contesto reale con utenti veri eccetera eccetera ci interessano molto di più rispetto ai precedenti la performance quindi che l'applicazione sia rapida si carichi in fretta e così via e la sicurezza di tutto il sistema quindi avrete notato tra l'altro che nel momento in cui usate il create react app diciamo lanciate nel pm start ci mette un certo tempo a partire e questo perché siamo in sviluppo nel senso che tutta una serie di operazioni non sono state ottimizzate non sono state pre diciamo elaborate e quindi vengono elaborate solamente in fase della prima richiesta e tra l'altro in parte anche all'interno direttamente del browser cosa che ovviamente non vogliamo in fase di produzione nel momento in cui abbiamo due server abbiamo tra l'altro una questione di cross origin nel senso che andremo a discutere poi tra poco cioè di fatto il codice caricato da un server non è di default abilitato a fare richieste ad altri server a meno di opportuni header in http abbiamo anche tra l'altro delle opportunità nel mantenere diciamo una soluzione con due server perché o con più server tra l'altro perché nel momento in cui abbiamo diciamo un carico un carico computazionale da distribuire ovviamente avere più server vuol dire avere già in parte diviso questo carico nel momento in cui vogliamo utilizzare delle API esterne tra l'altro ci troviamo forzatamente nella condizione di avere un ulteriore server perché le API fornite da terze parti chiaramente riservono su un server che non potrà fornire per definizione anche la nostra applicazione quindi ci sono tutta una serie di fattori da considerare abbiamo quindi schematizzato tre possibili soluzioni a questo problema che sono quelle che vedete qui sulla slide la prima vede il browser che sostanzialmente parla con due due o più se abbiamo due o più server anche più di due eventualmente se avessimo API di terze parti e così via quindi uno è il nostro application server che fornisce sostanzialmente l'applicazione React poi vedremo eventualmente come configurarlo per il caso della produzione e così via però sostanzialmente c'è un application server dedicato all'applicazione e poi c'è uno o più eventualmente server server web che sono dedicati all'elaborazione dei servizi forniti tramite l'API REST nel nostro caso abbiamo imparato a farlo con Express e vedremo appunto come gestire questa questione relativa al fatto che il browser deve accedere a due server all'interno della stessa applicazione c'è un meccanismo che si chiama corso che approfondiremo in una breve lezione specifica che ci consentirà di gestire le problematiche di sicurezza relative abbiamo poi un secondo caso in cui continuano ad esserci due server ma il browser in realtà ne vede uno solo che è quello in cui tutto passa tramite l'application server di React quindi il browser continua a parlare con questo application server ma all'interno dell'application server va ad agire da client verso un altro server che è il nostro server lo stesso di questo che abbiamo visto qui a sinistra che fornisce l'API REST chiaramente bisognerà configurare attentamente tutta una serie di parametri però questo riesce a superare la limitazione del doppio server che è una limitazione sostanzialmente dovuta al fatto che usiamo il browser che deve parlare con due server nel momento in cui internamente al React application server andiamo a interrogare un API server ovviamente siccome questa operazione la facciamo all'interno del server stesso nostro della nostra applicazione e non la lasciamo fare al browser avremo molti meno problemi di sicurezza quindi non c'è tutta questa questione del corso di cui andremo poi a parlare terza soluzione è quella centrale che sostanzialmente vede il browser parlare con un unico server quindi in questo caso abbiamo deciso di usare un unico server che sarà quindi il nostro express che quindi avrà automaticamente sulle root già predefinite le nostre API rest e in più avrà una configurazione particolare per consentire di servire da una specifica directory del contenuto statico e dovremmo crearlo tramite l'ambiente di sviluppo React creando così il cosiddetto React Application Bundle che alla fine non sono nient'altro che dei file statici preelaborati preconfezionati dal sistema appunto del Create React App e che semplicemente vanno presi copiati e serviti in maniera fissa all'avvio dell'applicazione al browser che fa richiesta appunto di quell'applicazione vediamo dunque ora ognuno di questi casi in maggiore dettaglio prima di tutto caso dei due server separati e contemporaneamente attivi quindi il server web di React e il server che fornisce l'API rest sono separati o stati separatamente eventualmente anche su differenti host quindi e differenti indirizzi non è detto che sia su localhost anzi in uno scenario reale ovviamente non lo sarà noi usiamo localhost semplicemente per comodità e se siamo sullo stesso host ovviamente sarà anche su porte differenti perché ovviamente non possiamo avere due server web sulla stessa porta perché se uno sta in ascolto non può starci un secondo server il browser agisce in questa maniera riceve l'applicazione React del primo server infatti si collega localhost 3000 e poi eventuali API richieste verso l'API dovranno essere direzionate direttamente dal browser quindi direttamente dalla applicazione React al secondo server che quindi dovrà essere noto in termini di indirizzo dell'host della porta come facciamo a far funzionare tutto il meccanismo è semplice nel senso che per far partire il progetto React facciamo il solito npm start per far partire express ovviamente facciamo il solito comando node index.js che conterà i comandi per far partire express diciamo con tutte le route necessarie e così via sono due progetti in due cartelle differenti o due server differenti direttamente e qui abbiamo un problema tecnico che è appunto gestire questa questione della richiesta ad un secondo server su un origin differente e che affronteremo separatamente in questo set di slide e che verrà messo a breve a disposizione come altra lezione altra breve lezione diciamo così demandiamo quindi l'aspetto tecnico su come gestire questa questione del corso appunto questo set di slide diciamo che in qualche maniera l'abbiamo risolta e questi sono i vantaggi e i disvantaggi della nostra soluzione chiaramente avere più server è facile nel senso che una cartella con un progetto una cartella con un altro progetto li lancio e sono attivi basta avere l'accortezza di avere host differenti oppure porte differenti se si è sullo stesso host e ovviamente basta questo per attivarli e quindi per fare il deployment ovviamente chiaramente bisognerà fare attenzione ad attivare prima il rest api server dell'applicazione perché l'applicazione una delle prime cose che fa è andare a interrogare il rest server però a parte questo dettaglio diciamo che il meccanismo è molto semplice due progetti in due cartelle attiviamo due server la soluzione è molto scalabile perché ovviamente le richieste vanno direttamente ai server che sono incaricate di gestirle e quindi ognuno ha il suo carico che dipende appunto da quello che deve fare tra l'altro questa è l'unica possibile configurazione nel momento in cui le API rest siano fornite da una terza parte perché in quel caso abbiamo un server addizionale che non è sotto il nostro controllo e quindi dobbiamo per forza utilizzare questo tipo di meccanismo cioè l'applicazione deve andare a chiedere un server differente e deve essere direttamente l'applicazione è necessario per svolgere correttamente tutto questo per far funzionare correttamente tutto questo sistema gestire questa questione del course appunto il cross origin resource sharing di cui diremo a parte e questo va configurato sul server che fornisce l'API tra l'altro questo richiede usare degli urli assoluti perché dobbiamo specificare il nome dell'host la porta e così via quindi che sono spesso una scomodità diciamo però qui sono anche una necessità tra l'altro il course è una cosa un po' delicata per questo che spendiamo poi delle slide a parte in una lezione apposita perché un course mal configurato può essere un problema di sicurezza per esempio potrebbe consentire di accedere alle nostre API da applicazioni che magari fanno finta di essere altre e così via quindi potenzialmente possono ingannare l'utente dal punto di vista pratico però mettere course sul server API è molto semplice nel senso che basta prendere l'index.js che contiene i vari comandi di express e mettere il middleware apposito quindi importarlo e dire use course che di default consente tutto e chiaramente ovviamente questa cosa va bene solo in fase di sviluppo altrimenti c'è da gestire bene a chi ha il permesso di accedere all'API come vedremo a parte quindi in modo di cioè quando andiamo in produzione e quindi non siamo più in fase di sviluppo ovviamente questa cosa da sola non va bene bisogna gestire separatamente le origin fare l'attenzione la configurazione e così via dal punto di vista pratico quindi l'applicazione React vuol dire che deve avere diciamo un url di base che contiene un url assoluto come dicevamo che quindi deve contenere il protocollo l'host il numero della porta e dovrà essere diciamo utilizzato tutte le volte che si vanno a fare le richieste fetch per esempio in questo caso fetch courses questa chiamata per esempio per dire nella did mount all'avvio dell'applicazione e risponderà all'API server che appunto sarà un express su una porta che corrisponde a quella che dobbiamo avere inserito qui sull'host che abbiamo indicato e risponderà al url che abbiamo indicato qui slash courses con diciamo il suo codice che è quello che abbiamo già scritto visto tempo fa quando lavoravamo direttamente in javascript senza react qui vedete in più semplicemente il fatto che è stato importato un modulo course e ha attivato il relativo middleware come dicevamo nell'esempio per ovviare il problema del course sostanzialmente possiamo sviluppare possiamo utilizzare il proxy presente nell'ambiente di sviluppo di react questo problema di usare dell'API in react è molto sentito perché praticamente tutte le applicazioni react che non siano estremamente banali hanno bisogno di memorizzare le informazioni lo fanno tramite un API server e quindi c'è una caratteristica fornita dall'ambiente di sviluppo di react che funziona nel react development server incluso in questo ambiente di sviluppo che è estremamente diciamo semplice da utilizzare e che è quella di usare come dicevamo prima un proxy quindi configurare un proxy all'interno del react application server e fare in modo di girare le richieste che non possono essere servite da react application server tramite un proxy a un altro application server o meglio diciamo un web server che implementa le API rest dal punto di vista del browser questa cosa del proxy è completamente trasparente il browser pensa che ci sia solo un unico server perché parla sempre con lo stesso server quindi localhost 3000 slash e vari url quindi anche per questo è diciamo molto semplice dal punto di vista dell'utilizzo soprattutto appunto in fase di sviluppo e ci evita quel problema nel corso che si verifica solamente nel momento in cui le applicazioni di javascript all'interno del browser devono parlare con due o più server quindi il browser accede a un unico server che è quello di react il server web di react è configurato per agire come proxy per certe richieste queste richieste sono passate al al server dell'API e ritornate con il loro body diciamo completamente inalterate come se facendo finta che siano una risposta direttamente del react application server in questo caso ovviamente non c'è bisogno del corso perché c'è un unico server come configurarlo è molto facile avete il package json che vi viene creato automaticamente nel momento in cui fate create react app per ogni nuova diciamo ambito di sviluppo di react andate in fondo alla lista del package json che non è nientato che appunto un json che alla fine è un oggetto unico inserite una nuova chiave proxy e il suo valore è l'indirizzo del application server quindi quello che deve essere contattato dal proxy e nel nostro caso diciamo appunto localhost 3001 perché ci siamo messi stessa macchina e porta successiva notate bene questa soluzione funziona solamente in modo development perché? perché ha bisogno del web server incluso nel create react app che ha già questa questione in proxy diciamo pronta per essere utilizzata perché appunto è proprio un caso così comune averne necessità come funziona questo proxy sostanzialmente il proxy interno appunto al react development server serve le richieste direttamente se riconosce che è un asset che ha lui stesso quindi per esempio nella cartella public in cui mettiamo tutte le risorse statiche oppure se la richiesta ha un header accept di tipo text html quindi per esempio la richiesta è la prima pagina del nostro sito altrimenti cercherà di spedire la richiesta tramite il proxy e quindi questo proxy andrà a contattare il web server che abbiamo indicato nella configurazione del package json se il server risponde la risposta e se il proxy risponde la risposta del proxy è ritornata quindi come se fosse una risposta del react development server se invece il proxy dice che non ha questa risorsa verrà fornito qualcosa di default che è la pagina html di default che è la prima pagina della nostra applicazione in react quindi siccome di fatto il browser vede un unico server web e non sa che dietro c'è tutto questo meccanismo è buona pratica evitare di avere percorsi diciamo in conflitto negli url quindi abbiamo un namespace dei nomi che possiamo usare negli url riserviamo qualcosa per il nostro application server per esempio un prefisso quindi diciamo che per esempio potremmo avere tutte le nostre api sotto il prefisso slash api quindi nella nostra applicazione quando abbiamo bisogno di chiamare un api tramite fetch metteremo sempre slash api slash quello che ci interessa che sono corsi piuttosto che exams piuttosto che tasks eccetera eccetera così che non vadano in conflitto con eventuali risorse statiche presenti all'interno del react development server che sono i vari css javascript javascript in realtà sono gestiti diversamente però appunto immagini eccetera e non ci sia confusione magari dovuta al fatto che ci siamo sbagliati e abbiamo dato lo stesso nome a due cose diverse è possibile usare questa configurazione anche in produzione però al di fuori del react development server quindi possiamo prendere dei server web diciamo i tipici server web che vengono utilizzati nei deployment reali per esempio qui trovate due dei più diffusi apash jinx anche se hanno questa capacità di diciamo rigirare alcune richieste tramite un proxy degli altri server web tra l'altro la sintassi è anche relativamente semplice abbastanza simile e questi in genere lo fanno proprio sulla base del percorso per esempio se si match un certo percorso diciamo slash api è possibile andare a rigirare tutte le richieste che arrivano su questo percorso quindi tutto il resto cioè tutta questa richiesta ad un altro server e dare indietro la risposta come se fosse una risposta del server che l'ha ricevuta e quindi di nuovo il browser vede un unico server con cui parlare e quindi non sa neanche che esiste questo secondo server questo tra l'altro è utile anche nel caso in cui si voglia per esempio mantenere l'application server che ha appunto le api dietro con qualche configurazione in rete particolare indirizzi privati o per questioni di sicurezza varie non si vuole esporre direttamente su internet eccetera quindi c'è questo passo intermedio del proxy diamo un'occhiata agli errori più comuni che si possono verificare in questa configurazione a doppio server che c'è in entrambi i casi solamente che in un caso viene utilizzata di nascosto da uno dei due server web se siamo sulla stessa macchina prima di tutto dobbiamo lanciare supporti differenti ovviamente poi come vi dicevo prima dobbiamo ricordarci di lanciare il server che fornisce l'ipi a rest prima di lanciare l'applicazione react questo può anche essere automatizzato andando a lavorare un po' nel package json per esempio andando a lavorare nella parte relativa gli script di avvio e si può aggiungere una riga diciamo per lanciare il server con node che ci fornisce l'ipi rest ci sono delle guide che adesso vi indico quindi per esempio appunto questi sono appunto degli esempi di come fare questa operazione in questo caso corso non è necessario quindi bisogna ricordarsi di rimuoverlo dal server express per non avere problemi di sicurezza che abbiamo detto meglio meglio non consentire di default accesso a nessuno come sempre come per tutte le politiche di sicurezza e tra l'altro in questa maniera il server api è più sicuro perché potrà essere acceduto solamente da react se non c'è server quindi tramite appunto questo meccanismo del proxy che non è soggetto il course il course è solamente vedremo una limitazione imposta all'interno dei proxy appunto per evitare questo problema di caricamento da più server che potrebbe causare problemi agli utenti però se appunto il caricamento viene fatto da un server che controlliamo noi diciamo questo ovviamente è possibile non è soggetto a particolari limitazioni in caso di produzione ovviamente bisogna fare anche attenzione nel senso che è vero che basta aggiungere diciamo quelle righe di configurazione che sostanzialmente sono abbastanza simili a quello che viene fatto diciamo nel react development server però magari in fase di produzione abbiamo più versioni dell'applicazione eccetera e quindi bisogna fare attenzione ai percorsi e quindi i path che abbiamo diciamo in uso per esempio che sono in sviluppo potremmo ottenere api e poi magari in produzione abbiamo delle api versionate quindi ipi version v1 v2 eccetera e quindi vanno configurati correttamente rimappati eventualmente correttamente quindi bisogna fare molta attenzione alla configurazione per evitare di incorrere in errori veniamo ora all'ultimo dei tre casi che abbiamo visto e quindi creiamo questa build e la mettiamo dentro un normale server web che potrà essere express ma in qualsiasi anche altro server web quindi dobbiamo impacchettare e spostare l'applicazione react fuori dal nostro ambiente di sviluppo e in un web server reale questa tra l'altro è anche una cosa interessante da conoscere per sapere come fare poi per andare verso appunto il caso di produzione quindi come facciamo a tirar fuori il cosiddetto react bundle react infatti non ha necessità di girare nel suo development server noi lo facciamo per comodità perché sviluppiamo l'applicazione e quindi ci sono tutta una serie di caratteristiche che ci aiutano a sviluppare con più efficienza però possiamo creare questo bundle e tra l'altro si crea in maniera estremamente semplice perché nel famoso pack json ci sono c'è anche tutta una serie di diciamo di di riferimenti a degli script che sono in grado di crearcelo facilmente con un unico comando anziché npm start npm run build quindi questo comando crea un production bundle quindi con tutto il contenuto necessario per far girare l'applicazione su un normale server web quindi questo bundle è composto di tutto quanto necessario quindi file html file gs tutti gli asset quindi le immagini css eccetera eccetera ed è fatto in maniera che possa essere servito da un qualsiasi server web quindi apache jinx bhp qualsiasi server web che abbiamo sul quale possiamo inserire del contenuto statico perché alla fine sono dei file statici può supportare l'utilizzo di questo production bundle che si crea semplicemente con npm run build quindi siamo in questa situazione in cui il browser parlerà con un unico server in questo caso vi ho scritto expert ma poi se qualsiasi server diciamo che noi per facilità usiamo express perché così abbiamo già diciamo integrate in express le nostre api rest che quindi sono mappate su certi url e non dobbiamo fare altro che avere uno spazio dove mettiamo i contenuti statici che vengono serviti semplicemente come contenuti statici ma se vi ricordate abbiamo già imparato a farlo in express per esempio per la pagina di default nel momento in cui volevamo far servire i contenuti da un server web per evitare quel famoso problema del course per esempio quando avevamo il problema di importare i moduli qualche lezione fa questo è il risultato dell'output di npm run build un esempio ci mette un certo tempo diciamo un minuto qualcosa di questo tipo e sostanzialmente vengono fatte tutta una serie di operazioni che sono sostanzialmente la diciamo compilazione di tutti i sorgenti eccetera raccogliere tutte le risorse preparare dei file statici il tutto viene messo sotto una certa cartella che di default si chiama build che può anche essere cambiata e appunto viene tutto inserito in una serie di file che sono compressi ripuliti tutto ciò che non è necessario vengono presi tutti gli import dei vari moduli inserito tutto in un unico file o comunque pochi file tutto compattato eccetera per creare diciamo l'unità minima di file che servono a far girare la nostra applicazione trovate ulteriori diciamo indicazioni come sempre nei link che vi forniamo sulle slide cosa fa in pratica build di fatto crea questa applicazione statica quindi dei file da servire a fronte di una richiesta da parte del browser dell'applicazione e fondamentalmente il lavoro è fatto da Bapel che è quel traduttore di cui abbiamo già accennato e Webpack che è un altro sistema che appunto ci serve a compattare tutto quanto in pochi file Babel fa l'operazione di trasdurre tutto il JSX e tutta la sintassi diciamo javascript che diciamo che può essere magari non interpretabile correttamente da browser più vecchi in codice javascript più di base dipende da cosa abbiamo scritto nel solito file package json quindi la versione del browser che sostanzialmente vogliamo supportare quindi ha una serie di preconfigurazioni e sa che ci sono certe versioni per cui certe caratteristiche non sono supportate quindi vanno incluse dei cosiddetti polyfill cioè delle librerie del codice aggiuntivo per andare a simulare quelle funzionalità e così via Webpack impacchetta e minimizza tutto il codice sorgente in un unico singolo file o comunque pochi file e come fa sostanzialmente fa tutta una serie di operazioni che rinuove a capo spazi tutto ciò che non serve quindi che serve solo sostanzialmente alla leggibilità del codice commenti eccetera accorcia il nome delle funzioni fa tutta una serie di operazioni varie che consente diciamo di arrivare alla dimensione minima possibile dei vari file javascript e ovviamente mette tutto insieme incluse le varie dipendenze quindi moduli importati eccetera e poi alla fine viene preparato un index html che l'unica cosa che fa è caricare appunto questo bundle che sostanzialmente ci consente di far girare l'applicazione il contenuto della folder build quella che abbiamo visto prima è self-contained quindi non ha dipendenze all'esterno di questa cartella e può essere semplicemente preso e copiato sul server dove vogliamo andare a fare il deploy quindi dove vogliamo far girare la nostra applicazione o meglio servire la nostra applicazione perché l'applicazione poi chiaramente essendo reaccia nel browser ecco un'operazione che viene fatta in fase di build è rimuovere tutte le capacità di debug quindi chiaramente questa operazione va bene ma nel momento in cui non abbiamo più bisogno di debug sapete che avete già provato che diciamo con l'ambiente di sviluppo di react nel momento in cui ci sono dei problemi c'è un'interazione diciamo tra server e client non avete bisogno neanche di far ripartire il client nel momento in cui fate le modifiche al codice del server eccetera perché c'è tutta una serie di interazioni dal client al server i messaggi di errore vengono riportati sul server sul client eccetera nella console e tutto che diciamo esistono chiaramente solamente in fase di sviluppo e di debug come facciamo andare diciamo a mettere questo build per esempio in express che è quello che volevamo fare nel disegno di prima perché in express abbiamo le api rest e quindi volessimo appunto mettere su questo sistema semplicemente entriamo nella cartella dove abbiamo il nostro codice per server express e andiamo a copiare da dove abbiamo il nostro react app nella cartella build e la copiamo nella cartella corrente che è appunto quella di express copiamo ovviamente in questa maniera così che venga creata la cartella build e poi definiamo in server.js cioè quello che facciamo partire per far lanciare express una root statica express static appunto barra build dove tutto quello che c'è dentro verrà servito in maniera così com'è a seconda delle richieste che verranno fatte dal browser in più se vogliamo possiamo fare un redirect del slash in index html che ci consentirà di fatto di far partire tutto quanto dal tutto quanto il bundle e poi nell'applicazione chiaramente possiamo chiamare le api diciamo fornite da express localmente quindi senza indicare un protocollo host porta ma semplicemente con slash qualcosa ovviamente di seconda delle root che abbiamo utilizzato ma teggi e svantaggi questa soluzione chiaramente è semplice per fare il deploy della applicazione finale dovunque posto che vogliamo usare express o comunque se abbiamo un server statico che ci fornisce le nostre funzionalità ipi e rest basta che sia in grado di fornire anche del contenuto statico cosa che praticamente tutti sono in grado di fare e ci basta copiare questo bundle lì quindi è possibile copiare l'applicazione dentro il server che fornisce l'api rest anche nel caso di server di produzione cioè sul server di produzione che fornisce eventualmente l'api se decidiamo di far fornire il javascript a questo server il codice javascript gira in qualsiasi browser come abbiamo detto prima definiamo noi nel package json quali sono i browser che vogliamo supportare e in quei svariati centinaia di megabyte che scarichiamo nel momento in cui abbiamo il nostro creator e act app ci sono tutta una serie di librerie aggiuntive polyfills eccetera che ci consentono di supportare questi vecchi browser e che magari non hanno il supporto completo per tutte le nuove funzionalità di javascript ecco gli svantaggi sono chiaramente che il build è fatto compattato eccetera e non può essere modificato se poi cambiate una virgola nel codice esorgente dovete rifare il build e ricopiare tutto quanto e quindi se noi volessimo utilizzare un meccanismo di questo tipo in fase di sviluppo chiaramente sarebbe poco adatto perché tutte le volte che salviamo cambiamo una virgola dobbiamo rifare il build ricopiare tutto e far ripartire il browser per ogni per ogni modifica che andiamo a fare che vogliamo andare a provare quindi chiaramente ovviamente non è il massimo della comodità entriamo ora nell'ultima parte delle slide dove diciamo visto che abbiamo parlato di webpack che questo sistema che prende compatta tutto crea questo bundle diciamo concludiamo il discorso andando a vedere alcune funzionalità che non sono strettamente indispensabili per questo discorso diciamo di far funzionare la nostra applicazione con l'api rest quindi il doppio server eccetera ma che possono esserci particolarmente utili in fase di sviluppo per esempio webpack è in grado di impacchettare tutti i moduli importati quindi non abbiamo più bisogno di avere scaricarli a parte eccetera fa tutto lui mette tutto insieme incluso in grado di mettere dentro i vari asset quindi immagini file css e anche l'opportunità di usare questi css moduli di cui diciamo tra poco quindi il webpack in modalità sviluppo che è quella che utilizziamo comunemente quando facciamo npm start lancia il webpack development server che è quel server appunto che sostanzialmente non vogliamo andare a toccare non possiamo andare a toccare perché appunto è già stato tutto preconfigurato per fare lo sviluppo react quello che appunto in cui al massimo possiamo andare a inserire il proxy con quella direttiva nel package json ma non certo inserire delle route cose di questo tipo cosa fa il webpack development server in modalità sviluppo infatti prende tutto il nostro codice e lo transpila che vuol dire lo traduce in un codice diciamo javascript che possa funzionare per esempio jsx lo fa diventare javascript eccetera eccetera lo impacchetta tutto in una risorsa che si chiama bundle.js che tra l'altro è mantenuta in memoria dal webpack del server quindi non troverete un file bundle.js nel sistema ma semplicemente nel momento in cui viene richiesto bundle.js questo ce l'hai in memoria e lo serve direttamente e questo è automaticamente inserito nel file index.html che viene servito indietro dal webpack del server nel momento in cui il browser accede al nostro per esempio localhost 3000 che è il default questo bundle contiene tutto il nostro codice più tutto react più tutti i moduli importati gestisce anche l'importazione di file non js come vediamo tra un istante e tra l'altro ci consente appunto quello di cui dicevamo prima hot reloading e i messaggi errori sincronizzati quindi l'hot reloading è il fatto che noi serviamo nel nostro ambiente di sviluppo quindi sul server e automaticamente il browser ricarica la pagina senza che dobbiamo fare nulla neanche prima il bottone di ricarica della pagina i messaggi errori sincronizzati sono quelli che compaiono sia all'interno della console del browser sia nel nostro ambiente di sviluppo e quindi abbiamo questo genere di facilitazioni come facciamo a fare gli import in webpack in particolare importare risorse che non siano solamente moduli javascript forse qualcuno di voi avrà notato e avrà già provato a utilizzare questi import che di fatto ci consentono di importare risorse che sono di fatto disponibili nell'ambiente di sviluppo sotto forma di file come per esempio delle immagini svg png e così via all'interno di variabili questi non sono moduli javascript quindi di fatto una scrittura così in javascript se non è interpretata da qualcuno non vuol dire niente non possiamo caricare codice cioè png è un formato binare non è un codice sorgente javascript però se mettiamo questo genere di istruzioni verranno interpretate dal webpack e faranno in modo di includere un reference all'immagine dentro il bundle e in maniera del tutto trasparente per noi non dobbiamo fare nulla e questo viene inserito direttamente nel bundle e viene fornito al browser nel momento in cui questo richiede il bundle js e questo ha il vantaggio anche di evitare al browser di fare più richieste perché se è tutto già in un unico bundle di fatto non devono essere fatte richieste a che ttp aggiuntivo ognuna per ognuna di queste risorse addizionale possiamo anche fare delle operazioni relativamente al css queste operazioni sempre con l'import ci consentono di fatto di importare dei css in modo che i css che quindi avremo separato sostanzialmente per ogni diciamo componente della nostra applicazione e saranno concatenati tutti quanti in un singolo file ma facciamo conoscere in questa maniera Webpack in maniera esplicita le dipendenze e quindi diciamo Webpack è in grado di ottimizzare il caricamento di queste risorse perché appunto diciamo capisce a che cosa si riferisce ognuno di questi css inoltre è possibile diciamo utilizzare questa modalità che è quella dei moduli css non perché siano moduli diciamo come quelli javascript ma semplicemente una convenzione cioè tutti i file che si terminano con estensione punto moduli punto css anziché semplice punto css sono considerati dal webpack come moduli css e il loro stile può essere applicato con questa sintassi chiaramente la solita class che in realtà poi ha class name dentro il codice javascript perché class è la parola che abbiamo riservata in questo caso l'abbiamo chiamato styles quindi styles.primary e la particolarità di usare questo meccanismo è che i nomi delle classi sono rinominati dal webpack in maniera che siano univoci così che non ci siano conflitti con gli stili di altri componenti quindi di fatto possiamo sostanzialmente riciclare i nomi delle classi posto che mettiamo per ogni componente che ci interessa le informazioni dentro un punto moduli punto css webpack si occupa di fare in modo che il tutto non vada in conflitto e quindi di fatto di rinominare css le classi css per fare in modo che quando tutto è messo in un unico css non ci siano conflitti di per sé il css non ha i namespace che hanno invece certi altri linguaggi quindi per ogni classe css che andremo a creare dentro la nostra applicazione dovremmo avere un nome unico questo ovviamente non è semplice da garantire in applicazioni grandi e questo meccanismo però delega al webpack diciamo la richiesta di fare in modo che il nome della classe ovviamente sia unico all'interno dell'applicazione ultima considerazione perché usare questi import beh perché gli import sono particolarmente ottimizzati quindi sia gli script come abbiamo già detto ma anche per esempio css le varie risorse sono cosiddette minified quindi rese minime buttando via tutte le informazioni che servono fondamentalmente solamente alla formatazione quindi varie spaziature linee eccetera che non sono essenziali per il parsing delle informazioni e messi insieme in un'unica risorsa in poche risorse in maniera da minimizzare le richieste dirette tra l'altro procedere in questa maniera fa anche sì che webpack possa fare un controllo statico nel momento in cui va a cercare queste risorse perché di fatto sono più o meno diciamo potremmo dire compilate al momento in cui passiamo questi file javascript che hanno questi import e quindi nel momento in cui il webpack li deve tradurre in un singolo diciamo bundle in memoria o anche poi se vogliamo creare il build sostanzialmente ci viene indicato che quella risorsa non esiste perché nel momento in cui vede l'import va a cercarla per poterla portare dentro e chiaramente non trovandola ci avverte in anticipo se invece la risorsa fosse una risorsa statica normale dovremmo aspettare che il browser la carichi e ovviamente non la trova e il browser si diciamo se andiamo a debuggare dentro il browser troveremo il fatto che c'è stata una richiesta di rete che ha ricevuto un errore però di per sé non è sempre facile accorgersi del fatto che ci sono dei problemi di questo tipo soprattutto se magari lo stile riguarda un singolo componente limitato eccetera e quindi magari quel componente non è subito utilizzato eccetera tra l'altro ecco i file name che vengono prodotti come risultato di tutta questa operazione contengono delle stringhe casuali cioè degli hash così non c'è bisogno di preoccuparsi del fatto che il browser faccia il caching di versioni vecchie che potrebbe essere un problema nel momento in cui si fanno tante prove perché appunto il browser magari carica la versione precedente non quella che abbiamo appena modificato se ha lo stesso nome e bisogna sempre tutte le volte forzare il ricaricamento completo che ovviamente è una scomodità ovviamente tutti questi sono meccanismi di supporto e tutto quello che avete imparato finora funziona e continua a funzionare stiamo semplicemente segnalandoli perché nel momento in cui abbiamo appunto imparato a gestire un po' meglio questa questione del doppio server abbiamo incontrato questo web pack che potrebbe darci una mano diciamo notevole a migliorare e diciamo accelerare il processo di debug e di sviluppo perché sostanzialmente fa una serie di controlli addizionali per noi nel momento in cui utilizziamo correttamente queste funzionalità e chiaramente tutto ciò che è fatto prima che un errore si verifichi facilita il debug perché quell'errore ovviamente non è più da debuggare perché lo intercettiamo prima che ancora che si verifichi all'interno per esempio del browser trovate come sempre alcune risorse diciamo che potete andare a consultare in rete e questa questa lezione finisce qui e diciamo vi ricordo che abbiamo lasciato ancora in sospeso la questione del del course e quindi della questione di come gestire i due server web nel momento in cui è il browser che fa accesso ad entrambi e fa accesso appunto al secondo tramite delle operazioni di fetch da javascript che vedremo in una breve lezione successiva grazie dell'attenzione grazie a tutti